Ciao! Allora, sì, lo so, sono un po' in ritardo, ma va bene. Tempo fa sono andata, e non ho avuto tempo, tra una cosa e l'altra, mi sono successe un po' di cose, non so neanche se sia il caso di raccontarvelo o meno, comunque, vabbè. Diciamo che mi sono successe delle cose al lavoro, ma non ne voglio parlare. E quindi non ho avuto tempo per fare le recensioni, per registrare le recensioni. Cosa voglio dire? Sì, no, ho preso uno di questi. Uno di questi, li ho già visti anche in giro, sono molto carini. Sono della Sbapam, sono i Kokoro Amici del Cuore, che Kokoro in giapponese vuol dire cuore. Prima serie, poi non so, ci sarà una seconda serie, non lo so. Gli originali trova il rarissimo Cuore d'Oro. Sono, allora, Cuore dell'amore, Cuore Rosso, Cuore, il Cuore Fuxia, Cuore dell'amicizia, il Cuore Viola, il Cuore della Bellezza, il Cuore Verde, il Cuore del Coraggio, il Cuore Blu, il Cuore dei Sogni, il Cuore Giallo, il Cuore della Felicità, e poi c'è il Cuore d'Oro, che è il Cuore d'Oro. Bene. Poi, vabbè, qua c'è la solita rivista, con tutti gli animali, appunto, del bosco, quelli della foresta, che sono tutti divisi, appunto, questi qua sono tutti divisi in quattro categorie, animali domestici, animali dei ghiacci, che sono questi, che io li ho visti e sono tutti e tre carini. Poi qua c'è una storia, la volpe pettegola, e poi c'è la pubblicità degli zum zum squishy, giochini, eccetera. Allora, qui c'è, ho preso quello dei ghiacci, qui c'è un pupazzo di neve con un petti rosso, cos'è la scritta Cocoro, con il tetto azzurro così, Cocoro anche qui. Qui c'è la finestrella per vedere il cuore, vediamo un po'. Aspettate, prendo la forbice. Oh, mamma mia! Ok, qui c'è un lucchetto a forma di cuore che si gilla. Ecco così, vediamo se ci riesco. No, vabbè, lasciamo perdere, non voglio rovinare la scatolina. Bas babam! Qui c'è la porta con il, sempre, sigillo a forma di cuore, con cristallo di ghiaccio, sotto niente, e sopra c'è il tetto. Che però, appunto, io lo apro da qua sopra, perché sennò rovino la scatolina. Veniamo un po'. Allora, qui c'è un... Oh, ho preso il pinguino! Cartoncino che non serve a niente. E ho trovato il pinguino Oscar. Oscar. Qua c'è di nuovo quello di cuore, vedete, no? Il mondo delle coccole, che sono gli animali domestici, il mondo dei ghiacci, che sono gli animali dei ghiacci, il mondo della giungla, gli animali della giungla, e il mondo del bosco, gli animali del bosco. Carino. Oscar. Anche se sono un pinguino, amo il caldo. Nel mio igloo ho un bel camminetto, mi piace organizzare dei pranzetti a base di sushi. Ma mi ricorda moltissimo quello in uno dei corti che c'è in... i tre caballeros. Abito nel mondo dei ghiacci, 20 gennaio, cappuccino e macchia, è azzurro come il ghiaccio. Il cocoro. Ok. Ok, vediamo un po'. Oddio, è adorabile. È bellissimo. Qua si mette il cuore, qua gli occhi tipo i thai. Qui c'è il... cosa da togliere, qui c'è l'interruttore per la luce, sì, perché il cuore fa la luce, il cuore rosa. Ah, ok. Il cuore dell'amicizia. Vedete? Si mette qui, ci sono delle calamite. Molto carino. e poi si accende. Bello, bello. Molto bello. Ma pulsa. Ah no, mi pareva. Molto carino come luce, come lucina per... Era così? No? Com'era? Ah, perché è giusto, perché c'è il cuore, c'è il cuore in mano, vabbè. Allora lo rimetto dentro senza la plastica. No, carino, carino come come lucina per bambini, insomma, no, così. Però è carino anche da collezionare. Ok, ecco qua, tutto qui e alla prossima. Ciao, ciao! Ciao!